La ferrovia Reggio Emilia Guastalla è una linea ferroviaria di proprietà regionale a scartamento ordinario che collega la città di Reggio nell'Emilia con Guastalla. E' gestita da Ferrovia Emilia Romagna. Negli anni 70 dell'Ottocento diversi territori, specialmente Guastalla e i comuni rivieraschi, della provincia di Reggio Emilia gravitavano sul vicino capoluogo di Parma grazie alla costruzione della Ferrovia Parma-Subzara. Pertanto l'amministrazione provinciale, nel 1879 chiese la concessione di una linea ferroviaria che unisse Reggio a Guastalla. La richiesta fu approvata dal Consiglio dei Lavori Pubblici il 21 febbraio 1880. Il progetto definitivo fu approvato con decreto ministeriale del 14 dicembre 1881. I lavori di costruzione iniziarono nel luglio 1884, ma presto vennero interrotti a causa di divergenze tra la provincia e la ditta costruttrice, quella dei fratelli Anaclerio. Nel 1886 l'Anaclerio rinunciò a riprendere i lavori e la provincia si rivolse allora alla banca subalpina, alla quale affidò la concessione sulla ferrovia. A opera ferma, nel febbraio 1886 alcuni tratti già ultimati, vennero sommersi dallo straripamento di alcuni canali, pertanto essi dovettero essere rialzati. La costruzione riprese e il 26 ottobre 1886 vennero ultimati i tratti Reggio Bagnolo in Piano Novellara e Bagnolo in Piano Correggio. Il 5 maggio 1887 venne completato il tratto Novellara Guastalle e, il 15 ottobre dello stesso anno, entrò in funzione anche la tratta Correggio Carpi. Dal 1 gennaio del 2009 la ramo ferroviario della ACT, che gestiva la linea dal 1975, venne acquisito da Ferrovia Emilia Romagna, con la società reggiana che divenne azionista di quest'ultima con una quota dell'11,61% del capitale sociale. Il 19 settembre 2011 fu aperta all'esercizio la fermata capolinea di Reggio San Lazzaro. Nel 2012 Ferrovia Emilia Romagna affidò il servizio passeggeri alla neocostituita società ATPER, nata dalla fusione della sua divisione Trasporti con quella della Bolognese ATC, mantenendo però la gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Nell'ambito della progettazione e costruzione della stazione di Reggio Emilia AVI Medio Padana sulla linea alta velocità Milano-Bologna, situata nel punto del suo percorso che scavalca la Reggio Emilia Guastalla, fu prevista l'attivazione su quest'ultima linea di una fermata dedicata all'interscambio dei passeggeri tra le due ferrovie mediante la realizzazione di una pensilina posta est dell'ingresso della stazione di RFI. La nuova fermata venne aperta al servizio passeggeri il 15 dicembre 2013. Nel 2016 sono stati stanziati i fondi per i lavori necessari all'elettrificazione della linea, all'interoperabilità con la rete di RFI, alla posa in opera di barriere antirumore e all'adeguamento e a modernamenti di alcune fermate e stazioni. La linea, conta 16 stazioni e fermate. Reggio San Lazzaro, Reggio Emilia, Reggio Emilia Santa Croce, Reggio Stadio, Reggio Emilia Medio Padana, posta sotto la fermata ad alta velocità, Prato Fontana, Bagnolo in Piano, Bagnolo Soave, Pieve Rossa, San Tommaso, Bezzola, San Giovanni, Novellara, San Bernardino, San Giacomo, Guastalla. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.